Dopo tre anni influenzati dalla pandemia, il 7 giugno si chiude il primo anno scolastico normale. Niente distanziamento. Niente mascherine. Niente dad. Per questo vogliamo festeggiare il ritorno alla normalità. Ma non ci basta la normalità. Vogliamo qualcosa di più. Vogliamo una festa. Di più. Vogliamo un evento. Di più. Vogliamo MAS. MAS è il primo festival degli studenti e delle studentesse di Bologna. Ci sarà un concerto. Dibattiti. Food track. Sport. Street art. Dopo due mesi di lavoro abbiamo una data. Un luogo. Un contenitore. Ma adesso abbiamo bisogno di voi. Ci servono almeno 3000 euro per costruire un grande festival. Il nostro festival. Se vuoi aiutarci vai su ideaginger.it e cerca MAS, il festival degli studenti. Il nostroongelosi delle studenti e 300 euro per costruire un amiche di interno. Ci servono al lume. Allora come Is. 430 euro per costruire un profetto.